Amici di Radio Vita Nova, buon pomeriggio, sono Gerardo Mengoni. La Gluc, Laverno e le valli dell'Anzanto Il recentissimo premio Nobel per la letteratura, assegnato alla poetessa Louise Gluck ed il travolgente successo dell'ultimo suo lavoro dal titolo Averno, stampato a Napoli dalla Dante Descartes, ha suscitato in noi campani un comprensibile orgoglio. L'Averno, posto a meno di 13 chilometri da Napoli, ha rappresentato per la mitologia classica l'accesso principale all'Ade. Le anime dovevano entrare agli inferi solcando il lago e discendendo verso gli abissi dominati da Cerbero e da Plutone per i malvaggi e da Demetra e Proserpina per la restante umanità. Ma l'accesso agli inferi non era costituito solo dall'Averno, esistevano per così dire delle porte secondarie con caratteristiche morfologiche analoghe a quelle dell'Averno, che venivano chiamati Avernali. Uno degli Avernali più conosciuto, risonoto da Virgilio nel sesto libro dell'Eneide, ai versi 563 e 565, è la Mefite dell'Anzanto, una naturale emanazione di gas e vapori, situati in una radura adiacente al tenimento di Rocca San Felice, nel cuore dell'Alta Irpinia. Mefitis, Dea osca della transizione. La nascita della divinità Mefitis è molto remota, tanto da essere difficile risalire alle origini del culto. Il nome in osco è Mefitis e deriva forse dal Medio Diluitis, donde Mefitis con due volte FFI e quindi poi Mefitis, cioè colei che fuma d'intorno, ovvero da Mediu Io, e cioè colei che si inebria. Sono note del Torelli del 1990. Insomma è una divinità pacifica, le si attribuiscono il potere di fare da tramite, cioè di presiedere al passaggio, di personificare colei che presenzia i dualismi, come la vita e la morte, il giorno e la notte, il caldo e il freddo, il regno dei vivi e l'oltretomba. Il luogo è restato invariato nei secoli. A parte qualche pietra e qualche coccio che testimonia la presenza di un piccolo tempio e della produzione in luogo di penates di argilla che venivano venduti ai visitatori, nulla fa ritenere che sia mutato qualcosa intorno alla bocca naturale che emette vapori e gas e che ribolle al centro con fanghi caldissimi. Questi gas, ad alta percentuale di ossido di carbonio, sono notoriamente velenosi e da secoli pertanto l'uomo non si avvicina. Solo qualche ignaro cinghialetto e qualche faina all'oscuro del pericolo va a morire intorno alla bocca dell'avernale. Le staccionate e i cartelli tengono a debita distanza i visitatori e ammoniscono sul grave rischio che si corre superando le barriere. Ma la sorprendente visione di quella manifestazione naturale così singolare attrae molti curiosi. Le acque che scorrono a valle della Mefita si dirigono da secoli e secoli percorrendo curlicoli sotterranei alla vicina piana di Villa Maina dove oggi sorge un complesso termale imponente. Le acque infatti sono molto apprezzate da medici e pazienti perché risolvono problemi dermatologici, bronchiali e gastrointestinali. E ciò per la presenza di composti solforosi disciolti e per la temperatura media delle acque che è notevolmente elevata. Indipendentemente dai benefici dell'acqua dell'anzanto e dai pericoli dei suoi vapori resta la suggestione dei luoghi invariati nei secoli ed è la figura ieratica del poeta Massimo Virgilio che si aggira tra querce e lentischi ripetendo Est locus italie medio sub montis altis nobilis et fama multis memoratus inoris ansancti velles C'è un posto nel mezzo dell'Italia sotto alti monti, nobile e celebrato per fama in molte contrade, la valle dell'anzanto. Grazie dunque alla poetessa Gluck che con il suo averno ha ridestato in noi, seppur involontariamente, suggestioni, curiosità e ricordi indelebili. Gerardo Mengoni Grazie a tutti. Nicola Capria Socialista, più volte ministro della Repubblica e per tre anni vicepresidente della regione siciliana. A partire dal 1967, quando fu eletto per la prima volta deputato a Lars e subito gli fu affidata la carica di capogruppo dell'allora PSIPS di Unificati, è stato uno dei maggiori protagonisti della vita politica siciliana e nazionale. Avvocato era nato il 6 novembre del 1932 a San Ferdinando di Rosarno. Aveva fin da piccolo vissuto a Messina, dove, compiuti gli studi, fu eletto consigliere comunale e, poco dopo, anche capo del gruppo socialista. E da allora, fino ai primi anni 90, ovvero fino allo scioglimento del partito socialista, è stato per Messina un punto di riferimento importante. Non solo politicamente. Porta, infatti, la sua firma, la legge per il risanamento della città, mentre da ministro si adoperò, fra l'altro, per la realizzazione dello stadio a San Filippo. Fra i protagonisti della svolta del Midas, nel 76, quando Bettino Craxi lo voglia accanto a sé a Roma, prima di lasciare Lars, propose ed ottenne l'approvazione di una legge sul turismo, al cui interno sono inserite le ultime norme salvacoste, in edificabilità fino a 150 metri dalla battigia emanate dalla regione. Passato da Sala d'Ercole a Montecitorio, è stato ministro per il Mezzogiorno, dall'81 all'86 ministro per il commercio estero e nei primi anni 90 ministro per la protezione civile. Ha concluso la sua carriera politica da capogruppo del PSI. Nicola Capria, addetto di lui Bobo Craxi intervenendo a Trapani ad un incontro del PSI, è stata una figura nobile del socialismo italiano e siciliano. Ha attraversato tutte le fasi decisive della storia del PSI, a cui ha contribuito con significativo impegno nell'azione di governo e di partito. Lo piango con commozione, ricordando la sua straordinaria lealtà politica nei confronti di Bettino Craxi e dei socialisti, che mai abbandonò, anche nei momenti peggiori. Il nome di Nicola Capria, che era sposato con Gabriella Molè, figlia del professor Enrico Molè, già ministro di un governo dei CLN, nonché ordinario di Cinesi Antico all'Università di Roma e le stessa sinologa di livello mondiale, oltre ai gasdotti con l'Algeria e la Russia, resta legato all'accordo del 24 marzo 1985 con la Cina, allorché da ministro per il commercio estero fu promotore di un'intesa per la realizzazione di una fabbrica di veicoli industriali leggeri dell'Iveco, di portata tale da segnare una svolta nei rapporti economici tra Italia e Cina, con investimenti per 260 milioni di dollari dell'epoca. Michele Scimino, Gazzetta del Sud Someone to watch over me La dove finisce il fiume comincia il film, La storia tremenda di un elettrotecnico che sette inventare la pila Alfredo Cerruti Perché abbiamo scelto Miami? Perché Miami è vicino al maro Un maro che la bagna dalla mattina alla sera e che fa dimenticare la tristezza dei nostri pensieri Se dipendesse da lui, la partita dialettica finirebbe in un amen Il marisciano non parla italiano, non parla inglese, non si capisce niente Ricevuto volante 2 Mi butto a fare un bagno perché mi sono accadolato Sono Alfredo Cerruti, ex discografico di successo, Voce narrante degli Squallor E' un uomo fondamentalmente assai felice Non covo invidie, non ho rancori, non ho neanche un cazzo di minuscolo rimpianto E non concedo interviste dal 79 L'eccezione, a lungo rimandata, prende forma in una fredda mattina di dicembre In cui Cerruti Alfredo, napoletano, figlio di un avvocato napoletano, civilista E di una madre di Pordenone circuita in circostanze tumultuose Papà la incontrò in Friuli durante la seconda guerra mondiale Per ragioni di lavoro legate a un terreno e si innamorò Decide di raccontarsi Ho pensato subito all'amore Per me lei lascerebbe il suo castello Tutto d'oro Nel petto di un ragazzo c'è più cuore Cerruti ha attraversato la musica italiana alla testa della CBS La mia vera famiglia Della CGD e della Ricordi Direttore artistico, mentore, talent scout Autore immemorabili programmi radio televisivi E coscienza ironica di un microcosmo abituato a prendersi troppo sul serio E ritorno da te Nonostante il mio voglio Io ritorno perché altra scelta non c'è Dal 1969 con colleghi come Daniele Pace, Totò Savio e Giancarlo Bigazzi Cerruti inventò gli squallor Un gruppo anomalo che pur non essendo mai apparso in pubblico E avendo subito la ciclica censura delle radio Ispirò due film E fondendo Satira allo stato puro e Turpilopio senza freni Segnò il costume dell'epoca Dipingendo indelebili quadri di assoluto non-sense Lei che veniva da lui Lui che veniva da lei Non fu un incontro Ma un bombardamento I titoli degli album Se vuole glieli recito a memoria E le conseguenti copertine Spiegavano agli affezionati le regole d'ingaggio degli squallor Senza bisogno di ulteriori avvertenze Si aprirono i cieli Si aprirono le strade E i due camminarono senza vergogna Quanto amore Quanto amore Fu sprecato Dall'elettrotecnico Io e i miei compagni d'avventura Eravamo organici al mondo della musica Avevamo a che fare con i cantanti E i cantanti, non so se lo sa Sono degli scassa senza e uguali Volevano questo e pretendevano quell'altro Gente micidiale Usciti nei nostri incontri quotidiani con le stelle della musica Eravamo neri come la notte Allora pensammo di donarci un po' di luce Parodiamo il nostro universo E in quel modo ci salvammo l'anima Era il 38 luglio Ero rimasto colpito da un vecchio film inglese Il mio amico il diavolo Con una stupenda Rachel Bech Girato da Stanley Donen Uno dei personaggi Interpretava una canzone Che per buona parte alternava parti cantate A parti recitate E faceva molto caldo Ed era scoppiata all'afa Quando all'elettrotecnico Le venne una grossa idea Provai a fare la stessa cosa Utilizzando la base di Lady Barbara dei Profeti E in un giorno di caldo mostruoso Nacque il nostro primo pezzo 38 luglio Il capo indiano Che si chiamava Movenganchio I miei amici ridevano Funziono Alfred Che ti dobbiamo dire Avevano ragione Per discutere sull'ipotesi di un disco Avevo convocato Rinaldi Un grandissimo attore e doppiatore Pace e Bigazzi dissero Ma quali Rinaldi Il disco lo facciamo noi Allora unimmo le forze Incidemmo un 45 giri E proseguimmo Io sono stato sempre di sinistra E alla politica mi sono sempre interessato Pensi che tra di noi Discutevamo della caduta del muro di Berlino Almeno 15 anni prima del suo crollo Ma il PC non mi piaceva Era un partito monolitico Che pretendeva di indirizzare la morale Dettare le regole del buon gusto Decidere chi poteva sedersi a tavola E chi doveva rimanere fuori dalla porta Non ti faceva accomodare il PC E io alle feste a cui non ero invitato Non sono mai andato in vita mia Chi è sempre la volante 1 Che chiama la volante 2 Non ti sento Vieni bene Vieni dentro Vieni trosta Los Angeles Una città spietata Dove ogni minuto Si recombinano di cotte e di crude Lavorai con Arbore E indietro tutta Era un mezzo capolavoro quel programma Ci ritrovavamo a casa di Renzo Certe indicazioni le davo direttamente dalla terrazza Fumavo come un pazzo E a casa Arbore Il fumo era bandito Miami Dove i terrazzi sono affollati da Kojak Da Kavagan Da squadre speciali Da poliziotti veri E' una guerra che sembra lo stretto di Ormuz Fugitevi da Miami Prima che vi acchiaffi un po' il fiotto Malcom Pagani Per il Fatto Quotidiano Funte www.squallor.com Ricordando i giorni a un'alta latitudine Frequentando i posti dove mi vedrai Recitando i gesti e le parole che ho perso E ritorno da te Dal silenzio che è in me Volante 1, volante 2 Portati subito alla quarta Avenue Se hai capito se è la quarta strada Perché credo di aver individuato Aldo Biscardi Che sta rendendo l'aereo Vivo Anche tu hai ricevuto Ti volevo dire che il maggiore è Kavagan Dalla centrale Parlerò anche lui inglese Mi volete chiarire Queste cazzo di Aldo Biscardi Che cosa sono Lefnio Mi sono abituato Indossiamo la mascherina Indossiamo la mascherina Indossiamo la mascherina Manteniamo la distanza Manteniamo la distanza Manteniamo la distanza Manteniamo la distanza Ai tempi dei tempi Isaia nella Bibbia disse Lavamini et mundi estote Insomma Mantenimmoci pulita Sofocle Entrando in teatro Disse a Edipo e a sua mamma giocasta Mettetevi le maschere Perché vi puzza l'alito E noi oggi Sapendo tutto questo E con questi ettatori antenati Ci guardiamo bene Le mani pulitissime La nostra mascherina E manteniamo le distanze Da fiati Aloni E vapori Le mani le lavo sempre La mascherina La indosso quando è necessario E la distanza Sempre Indossiamo la mascherina Indossiamo la mascherina Indossiamo la mascherina Slobodanka Ciric Performer e scrittrice Indossiamo la mascherina Mila Maraniello Digital Artist Laviamoci spesso le mani Laviamoci spesso le mani Buonasera a tutti Sono Gennaro E vi invito A tutti Di qualsiasi età A indossare la mascherina Grazie Mi basterà dire soltanto Laviamoci le mani Oppure Indossiamo la mascherina Oppure Manteniamo le distanze Indossiamo la mascherina Slobodanka Ciric Performer e scrittrice Laviamoci le mani Laviamoci le mani Indossiamo la mascherina Manteniamo la distanza Mi basterà dire soltanto Non so Laviamoci le mani Laviamoci le mani Laviamoci le mani Indossiamo la mascherina 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 i frutti che cadono senza che alcuno li colga il vento e la foresta che piangono finché lacrime hanno d'autunno a foglia a foglia le foglie fragili al piede un treno che corre la vita scorre Guilherme Apollinaire un arcobaleno con il colore di voci e di storie tutti più responsabili protagonisti del progetto Piero Antonio Toma giornalista scritture Nicola Giuliano presidente onorario Abbio Napoli Paola Capriotti ceramista Gerardo Menguni ingegnere scritture Salvatore Landolfi ingegnere associazione libreria Vita Nova Donatella Schisa scrittrice Slobodanka Cilic performer scrittrice Mila Maraniello digital artist Nadia Basso pittrice Gennaro Castellano consigliere Abbio Napoli Rodolfo Molettieri antica forneria Molettieri Clarissa Campodonico giornalista Massimiliano Cimino attore comico Giuseppe Perna presidente associazione Annalisa Durante Marcello Erardi fotografo ideatore della pagina Facebook Napoli Vista attraverso gli scatti fotografici Anna Poerio pittrice e presidente associazione culturale Alessandro Poerio Antonio Lera presidente caffè letterari d'Italia e d'Europa presidente Rotary Club Atriaticum Piceno Roseto Quando un giorno ti lascia pensi all'altro che spunta Giuseppe Ungaretti Tutti più responsabili Tutti più responsabili attraverso l'ammblade Grazie a tutti Grazie a tutti e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti